Ho iniziato Rugby Tots perché avendo una bambina di tre anni ho visto che aveva delle capacità motorie particolari e avendo allenato le giovanili a rugby, quindi da bambini che andavano dagli otto anni fino ai quattordici mi sono reso conto che queste capacità motorie venivano pian piano perse dai bambini. Ho iniziato Rugby Tots perché volevo che i bambini continuassero ad avere queste loro capacità che sono innate in noi alla fine e le perdiamo man mano che il bambino cresce, volevo che continuassero ad averle queste capacità e arrivassero ad un'età adolescenziale con una motricità che potrei definire normale ma che ultimamente non lo è più. Con Rugby Tots ho trovato la professionalità che cercavo e mi piace molto il programma che hanno ho notato, benché sia partito da molto poco, ho notato un miglioramento già nei bambini nelle capacità di equilibrio, nelle capacità di coordinazione, solo dopo un mese di lezione quindi mi piace molto come programma, penso che sia proprio fatto bene e anche i meeting che vengono fatti sono molto istruttivi perché aiutano magari anche a continuare ad avere il focus su alcune parti del gioco e dell'organizzazione, proprio del know-how che Rugby Tots mette a disposizione e sono sicuro che se potrò fare una testimonianza come questa qua che sto facendo adesso tra qualche anno sono sicuro che sarà altrettanto entusiasmante perché mi sto trovando molto bene in questa organizzazione. Grazie a tutti